Una cabina di regia è un patto per il sostegno alle imprese, quanto chiede Confartigianato Abruzzo, che parla di 10.000 imprese artigiane abruzzesi esposte agli effetti derivanti dall'emergenza coronavirus per un totale di circa 23.000 addetti. In sofferenza soprattutto la domanda turistica, sono 4.637 le imprese interessate. I settori maggiormente esposti, rileva l'associazione, sono nove. L'alimentare, il benessere, la comunicazione, gli esercizi ricettivi, legno arredo, la moda, la riparazione e la manutenzione dei macchinari, ristorazione, trasporto e logistica. Problemi dovuti non solo alla mancanza delle materie prime, ma anche al rallentamento dei trasporti e dei collegamenti a livello internazionale. Il dato complessivo parla di 9.480 imprese artigiane maggiormente esposte alle conseguenze dell'emergenza in Abruzzo, la maggior parte delle quali si trovano nella provincia di Chieti e in quella di Teramo. Per questo Confartigianato chiede che i 300 milioni di euro residui dei fondi FER, FSE e PSR dell'Unione Europea nella programmazione 2014-2020 vengano destinati al sostegno dell'economia in questo periodo d'emergenza. E a proposito di sostegno all'economia, Credit Fee di Confartigianato e Abrex hanno siglato un accordo per creare un circuito virtuoso di credito alternativo dedicato ad imprese e professionisti. Conosciamo bene le difficoltà legate all'accesso al credito delle piccole imprese, degli artigiani e dei commercianti. Con Abrex abbiamo già da qualche anno lanciato questa bella iniziativa per sostenere le imprese con un circuito extra bancario. La regione con la crisi delle banche, non voglio tornare su questo tema, però di fatto siamo rimasti solo con delle BCC, magari con Artigian Cassa che sono banche locali che sostengono le piccole imprese. Tolte loro non abbiamo più dei grandi riferimenti quindi con Abrex lanciamo questa misura di sostegno alle imprese. Abbiamo misurato la nostra capacità di erogazione da qui a un anno in 23 milioni che è sostanzialmente l'erogato che entrambe i soggetti hanno messo in piedi nello scorso anno. Quindi il nostro budget minimo è permettere alle imprese, alle aziende iscritte al circuito Abrex e alle imprese che utilizzano credit fidi e a quelle che vorranno aderire da qui a un anno di accedere e poter fare investimenti per questo importo. Soprattutto in un momento di difficoltà come quello che viviamo oggi condizionato anche da questa calamità, da quella che qualcuno magari chiamava una semplice influenza, non mi sembra sia una semplice influenza.